Si delineano i contorni del rogo che da prima dell'alba ha tenuto impegnate 13 squadre dei vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta coinvolta. L'incendio è divampato alle 4 e 30 circa, in via alla cartiera, in un capannone di circa 600 metri quadrati appartenente a una attività artigianale, la falegnameria Boldini. Il capannone si trova in area produttiva all'interno di una zona urbanizzata e residenziale. A pomodosso e castelletto e con lo shopping online, magazzini, sorriso, il portale e l'istoro.